Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli che marciano sui rotaie tram e treni. L'airbag si gonfia in pochi millisecondi. Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli. Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli a motore. È necessario far controllare i freni se emettono il rumore durante le frenate sostituendoli se necessario. Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli. Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il codice fiscale. Con la patente di categoria 2 si possono condurre i motocicli. Con o senza carrozzetta. Di potenza fino a 35 kilowatt. Rapporto potenza, peso non superiore a 0,2 kilowatt su chilogrammi purché siano derivati da una versione dello stesso modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima. Rapporto potenza, peso non superiore a 0,2 kilowatt su chilogrammi purché siano derivati da una versione del modello che sviluppi oltre il modello. del doppio della potenza massima e t obtusini in sじゃない lore. Assasalzzi. Perché non sia diverso da un'versione della stesse modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima. Se ci sviluppi oltre la potenza massima. Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente. In una carretta a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le corsie. In una carretta a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le corsie. La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata. Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio di lubrificazione del cambio di velocità. Grazie. 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 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico. Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia. Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia. Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte. Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentato da bambini. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale. Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni. Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni. Il passo carrabile è un salvagente. Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità. Il fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni arrecati dai conducenti. Il territorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci. Per far passare i veicoli cui spetti la precedenza. E' obbligatoria ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci. Per far passare i veicoli cui spetti la precedenza. Vero. Vero, vero. Il segnale raffigurato indica che termina una strada con diritto di precedenza. Le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D prima degli altri veicoli. Sì, falso. Sì, falso. Il conducente deve sempre mantenere il controllo del veicolo. Controllo del veicolo? Vero. Sì. Vero. 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 Poi che non abbiamo bisogno di controllare, non? Si. Quindi si abbiamo bisogno di controllare le servizie? Bro, se non si abbiamo bisogno di controllare le servizie? Si. Se abbiamo bisogno di controllare le servizie, ci possiamo fare la servizie, non. Non, 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 non. No, non, non, non. Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tramviaria. In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo ci deve svoltare a destra. Il segnale raffigurato precede il segnale di dare precedenza. Il segnale raffigurato precede il segnale di dovuto continuare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.